Vedete le squadre schierate Dovrebbero essere Locatelli e Moranelli in campo Ecco in questo momento il calcio d'inizio Non avrà la palla il Desenzano con Kalebe che va Che adesso può finalmente gestire un possesso d'attacco Palla dietro per Tranquillino il destro Desenzano che passa in vantaggio alla prima vera conclusione È stato Vignola Cerca la triangolazione, capisce tutto ancora Tranquillino Il destro ed è il gol di Tranquillino che esulta così 2-0 Tranquillino Che là va a cercare Locatelli Attaccato da Tranquillino Va giù Locatelli Fallo di Kalebe È rigore per la Chignolese Moranelli Conclusione C'è il gol Il gol del 2-1 Lo guanda Kalebe Miloni Prova a servire Kalebe Ci riesce il sinistro E c'è un gran gol di Kalebe Grande giocata Sull'asse Miloni-Kalebe Ecco la Chignolese Attenzione Tranquillino Riparte Tranquillino Per Miloni Ancora per Tranquillino Che non trova la conclusione Clamorosa occasione In ripartenza per il Desenzano Kale adesso va al tiro Palla fuori È angolo Ma manca un secondo Anzi non è angolo Rimette in gioco il Desenzano con Ramazzotti Termina qui È stato un grande primo tempo Con lo tempo Ecco qua Il fischio D'inizio Chignolese Che può gestire il primo possesso Trova Sar Con il petto la mette giù Poi ancora tranquillino Dietro da Lo guanda Lo guanda Va a cercare Kalebe Con il tacco per Sar Mamadou Sar 4-1 Desenzano Ma che assist Di Kalebe Che ha arpionato Una palla con il tacco Indirizzandola Che adesso Va a commettere fallo Kalebe Prova ad andare via Kalebe Grande giocata ancora per Sar E poi la chiude Kalebe Questa volta il gol è di Kalebe Meritatissimo Che la con il destro La mette all'incroli Darrazi Moranelli Attenzione La conclusione Di Kela Che trova il gol del 5 A 3 2-32 Ancora da giocare Trova ad andare su Fermato Poi lo guanda In mezzo da Sar Kalebe La rete di Kalebe 6-3 Desenzano Grande 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 prestazione Bella partita Combattutissima Fino all'ultimo Anche per merito di una chignolese Che Non ha mai mollato Fino